Eccoci qui di nuovo con un altro ospite, il professore per Giorgio Valente, grazie per essere qui con noi. Insomma, anche con lei abbiamo condiviso un po' di serate delle fonti a Worts, qual è però l'atmosfera che si respira questa sera? L'atmosfera come al solito è molto elettrizzante, quindi io penso che stasera sarà una delle serate ottime, grandi, quelle che voi sapete organizzare. Il tema è piuttosto delicato, quindi insomma ci aspettiamo dei giudizi equilibrati, insomma incrociamo le dita, grazie. Infatti poi tra l'altro è stato proprio recentemente anche protagonista della serata legata al mondo tributario, per cui la ritroviamo qui anche nella serata dedicata ai penalisti, diciamo che si dà da fare con il suo studio e anche con la sua attività accademica. Beh, diciamo che il nostro studio si occupa di fiscalità internazionale, nella tematica del penal tributario internazionale è molto importante, il professor Caraccioli è con noi e quindi insomma da questo punto di vista il penal tributario è parte integrante della nostra attività. Io ringrazio nuovamente il professor Valente per essere stato qui con noi e tra pochissimo dovrà anche lui accomodarsi, perché e anche lo faranno tutti gli altri ospiti, perché sta per iniziare la serata. Per cui questo è l'ultimo collegamento che facciamo qui dal red carpet e poi inizierà la vera e propria serata di gala, condotta da Marco Gagliazzi, successivamente ci sarà il Sio Summit moderato da Deborah Rosciani, Radio 24 e insomma anche da poco nostro volto ufficiale di Le Fonti TV. Non mi resta quindi che lasciarvi alla serata, qui da Palazzo Mezzanotte, da parte mia Alessia Liparotti e tutto, godetevi il resto della serata.